... Incidente sul lavoro oggi, giovedì 21 giugno, poco dopo le 16, è la Cisla, azienda di stampaggio situata in Vestefano Bruda, Busano. Ferito alla mano con una pressa, un operario di 38 anni di Rivara. Sul posto sono prontamente intervenuti la Croce Rossa di Rivarolo Canavese, l'elicottero del 118, i carabinieri, le agenti di pulizia locale e il sindaco Chiono. L'uomo, dopo una prima medicazione, è stato ritrasportato all'ospedale CTO di Torino. Non è in pericolo di vita. Sul posto lo spresa del Asalto 4 per accertamenti del caso. L'uomo, dopo una prima medicazione, è stato ritrovato all'ospedale CTO di Torino. L'uomo, dopo una prima medicazione, è stato ritrovato all'ospedale CTO. L'uomo, dopo una prima medicazione, è stato ritrovato all'ospedale CTO.